ciao fenomeni ciao a tutti oggi vi farò vedere un video che purtroppo non riguarda cosa del tipo chi puzza di più challenge o chi scorreggia più forte challenge ma vi farò vedere solo questo supporto su cui sotto il quale ho montato il seghetto alternato per farvi vedere come si può usarlo come utensile da banco e qui c'è il piano dove poter tagliare con la sua con la sua lamettina che viene fuori dal buco qui c'è il posto gadget per le lame e poi gli ho fatto le impialliciature in mogano e in plastica con questi pezzi del fondo di un cassetto quindi qui c'è anche l'adesivo del mio gruppo speleologico e quindi adesso non resta che vedere il funzionamento dunque avete visto il funzionamento quindi ora vi faccio vedere anche come si cambiano le lame si va in pratica qui sotto stai lì visto oltre a questo devo farvi vedere anche cosa ho rinvenuto nell'altro video ho rinvenuto questo meccullock che ho provveduto a restaurare cioè lo smontato pulito tutti i pezzi con la benzina la plastica col sapone l'ho riverniciato di giallo e adesso devo solo trovare l'olio adatto per farlo partire ma comunque potete vedere comunque lo potete vedere funzionare potete vedere che funziona ho dovuto togliergli questo affare l'interruttore di sicurezza che stava qui dentro che non serve a un cazzo serve solo a bloccarlo quando quando arriva qualcosa contro il paramano ma comunque non serve a una menchia quindi l'ho tolto perché se non riuscivo neanche a chiuderlo sto a patì e detto ciò noi ci rivediamo al prossimo video e e e e o e e e e e e Ah